Ciao doc. Entra, avanti. Sientate. Siediti. Diamo un'occhiata. Allora, con chi eri affiliato ai tempi? Non credo di capire cosa... Non me mientas. Caporale, ho passato vent'anni a fare bandas de motoristas y pandilleros a East Los Angeles. Conosco il genere. E questa, non credo che c'entri una stufa. Va bene, tienila pulita e guarirà da sola. Cicatrice a parte. Voglio rivederti tra un paio di giorni per un controllo. D'accordo. È buffo. Con la città è invase in fiamme. Quartieri in guerra da decenni si sono uniti per lottare. Latinos, Gueros, Cinos, Bloods, Crips. Non importa. A volte serve una guerra per cancellare i rancori. Grazie, doc. St. John, rispondi. Taylor, chiama St. John. Taylor, non ti sei fatto più sentire. Temevo ti fossi avvicinato troppo all'uomo che stavi seguendo. No, sono vicino. Sono proprio nel loro cortile. Ascolta, avrei bisogno di una mano. Sono in un piccolo accampamento a sud di Crater Lake, non distante dalla South Rim Drive. Taylor, stammi a sentire. Non ho idea di cosa tu stia combinando, ma sta... Oh, no, merda! No, 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 lasciami! No! Taylor, Taylor... Oh, Cristo. Grazie.